Signori, bentornati in un nuovo episodio di Hellsit, un horror che ti fa cagare delle vutande, poi prendi la merda che hai fatto e te la vendi ai rifornitori del pianeta. Insomma, ho migliorato intanto un pochino la grafica, perché in teoria abbassandola. La vedete, il gioco dall'episodio precedente si vede meglio e ho abbassato la grafica. Come funziona questo gioco, lo sa lui. Il fatto sta che ci troviamo in ospedale dall'ultimo episodio che abbiamo trovato De Santis e uno di voi nei commenti mi aveva detto che tra l'altro non siamo noi De Santis. Noi in teoria siamo un investigatore venuto qui a investigare su questi casi paranormali successi nella famiglia De Santis. Ci troviamo in ospedale e adesso nell'episodio precedente avevamo trovato la lastra della radiografia di Mario Rossi. Vedete, dobbiamo trovare una seconda lastra, che dobbiamo mettere poi nella stanza dove era Camilla. Quindi la cosa che dobbiamo fare attualmente, ecco, col cazzo si chiude, menù di merda, è esplorare tramite l'ascensore tutto l'ospedale. Allora, noi in teoria dovremmo essere al quarto... ah, siamo al piano terra. Perfetto, quindi cominciamo dal primo piano. Siamo felicissimi di... Madonna, sei tu? Ma no, ma... Sala operatoria? Come quarto piano? Ho messo il primo. Ma qua è dove c'era Camilla? Come mai l'ambiente è così cambiato? E non c'era tutto questo... No, 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 no. No, hai dei bellissimi piedi. Ma dove cazzo va? Ma qua ci siamo già stati qua. Cento euro che passi lì e la mano ti prende. E invece no. No, no, no. Che puttana, vai qui. È tutto chiuso. Madonna, madonna. Qua non possiamo fare nulla. Cazzo devo fare? Funziona un cazzo. Vado dall'altra parte. Seguiamo il sangue, no? Mi sembra la cosa più giusta. L'ansia che ti dà sto gioco è sempre incredibile. E qua c'era la stanza dove abbiamo trovato la nota che in teoria per come ho capito c'è... Ci sono dei lavori in corso al sesto piano e c'è una copia della sala rianimazione nel dipartimento di sua sorella. Vedi che è arrivato in ascensore da qui. Ma perché siamo al quarto piano? Non funziona. Vai al secondo allora. Vai a fare il culo. Siamo qua. Eh, allora sei stronzo. Tra l'altro ho messo pure l'oscillazione della visuale così è più horror. Non so se si sente... Oddio! C'è quello che fa così. Ma questo è bellissimo. Sento cose piangere. Ti prego. Ti prego papà. Io devo aumentare forse un pochino il volume del gioco. Lo sento un po' piano. Forse adesso un po' troppo. Ma ci proviamo? No, la sedia a rotelle. Oddio! Signorina! È incinta. Non si alza. Li cammino sopra così. Cos'è? Oh. Oddio, signore, si tolga! Buon uomo! Sei un pelato del cazzo, ci ho sempre detto. No, no, no. Cosa sto vedendo? Porco di quel cane! Dai, vai a cagare! Tu che ti muovi la testa, vai via! Di cui posso? Questo è il reparto rianimazione, in teoria. Mamma mia, raga, ma cosa sto vedendo? Qua è dove abbiamo trovato la prima lastra? Ma qui non c'è nulla. Io devo ritornare nell'ascensore e prendere personale autorizzato. Vaffan... Io, in teoria, dovrei prendere l'ascensore. Perché mi avvicino qua e... C'è questo suono? Perché c'è questo suono? Ah, perché c'è lui dall'altra parte. Vai cagare! Se torniamo indietro... No, io già lo so che tu ti muovi. Vaffan... Mamma mia, meno male. Qui? Tutto libero! Mamma mia, tutto... Porca puttana, buon uomo! Porca madonna, ladra di cazzi! Cos'è? In tutto questo... È una bellissima donna qui! Mamma mia, ma cosa... È un disastro qua, è un massacro! Qua c'è di nuovo l'ascensore! Siamo sempre al quarto piano, ovunque andiamo. Dai, a questo punto andiamo per grado, andiamo al terzo. Che vuoi che ti dico? Che vuoi che ti dico? Ogni piano è la morte. Dov'è? Si apre qui. Ma siamo di nuovo qui. Ma cambia qualcosa... È un loop! Santo Dio! Santo Dio! Dove vado? Dove vado? Sto andando a caso! Veloce! Ma cazzo, corre! Per quinto! Oh! Oh! Se la giusta sequenza Non troverai Tu qui morirai Fa pure la poesia, no? E lei mentre è in ospedale malata È la mia ignoranza Che comunque come sequenza si possa intendere Tipo magari i piani dell'ascensore Abbiamo visto che abbiamo usato Vedi? Fai la giusta sequenza degli ascensori Quindi noi non stiamo realmente andando al piano terra Infatti eravamo sempre al quarto piano Adesso però abbiamo premuto il quinto piano Ma siamo al quarto piano Siamo ritornati nella sala che conosciamo noi con Camilla Quindi questa qui è già esplorata Mi sembra un po' inutile andare Quindi di qui non andiamo E ogni volta dobbiamo prendere l'ascensore a sinistra Ok, credo di aver capito più o meno quello che dobbiamo fare Quindi noi in questo momento siamo realmente al quarto piano Il problema è che in un certo senso siamo bloccati in questo quarto piano E io quando vedo le sedie a rotelle Mi viene l'ansia ormai Ma tanta ansia Qui dove abbiamo trovato il coso Perfetto Quindi quale potrebbe essere la sequenza? Andiamo al quinto piano di nuovo? No Quando è così è sbagliato Eh, la minchia da che non posso riprovarci Quindi se il quinto non è Cosa puoi? Ma io Fammi vedere una cosa Ma dai, raga Ma veramente Rolled paper Torino 1980 So è AF8 BC9 BD7 Avevo sto dubbio da una vita Che il pacco di sigarette Divo lo prendi Te lo siamo portati dietro così a caso Non ha nessun senso Ma quindi non è questa la sequenza Eh, dobbiamo ritrovare la sequenza giusta Proviamo il sesto piano Perché abbiamo trovato pure la nota Che ci sono dei lavori in corso Nel sesto piano Magari dal sesto piano che dobbiamo iniziare Potrebbe essere così Perché siamo riniziati Questa era la prima scena Se sbagliamo tre volte C'è quello che ci insegue Quindi andiamo al sesto Abbiamo sbagliato di nuovo Madonna C'è quella che piange Questo è l'avviso già Ok, piange lì Mamma mia Però lagga di brutto sto gioco Eh, raga Cioè, fai il giro così di visuale Ti perdi Allora, andiamo al piano terra Mi sa che ho sbagliato Oh Invece no No, no Siamo al piano terra Godo Godo Quindi piano terra è giusto E qua siamo dove Eh, vabbè Qui abbiamo Dove ci siamo nascosti Qua c'era De Santis Dall'altra parte, insomma Però al piano terra Non abbiamo niente da fare Per adesso Quindi Dobbiamo andare Proviamo Adesso il Quarto piano Direttamente il quinto Magari proviamo il quinto Così a caso Allora, piano terra Quinto piano Siamo veramente al quinto Quinto piano Perfetto Cos'è? Lettera per Caterina Google traduttore Alla mano I giorni senza di te Sembrano non passare mai Perché non vieni a vedere Vabbè, perché non vieni a vedermi A trovarmi Da Da Lucio Trova le lettere Cerca le lettere Eh Senti Un paio di cazzi Cazzo andiamo Oddio Qui Cosa cazzo c'è qua? Oh La chiave della lavanderia Attenzione Abbiamo una chiave Dobbiamo cercare le lettere Qua è chiuso Perché? C'ho questi rumori in testa Perché è così forte Tra l'altro Madonna Leva tutto Porco di quel cane I comandi Che fanno schifo al cazzo Allora E dove cazzo vado? Scusa Qui non c'è niente Accendi la torcia E il suo modo di dire ciao Prego Entra Non l'ho vista solo io Eh Non l'ho vista solo io Sei una grandissima Puledra C'è una donna incinta Che cammina La donna della sedia a rotelle Che era una donna Bruciata e incinta È palesemente incinta Un'altra lettera Un'altra lettera Cosa c'è scritto? Anche se non ho tue notizie Da molto tempo ormai Credo ancora in te È il nostro amore Oggi ti scrivo Perché forse c'è speranza Per farmi guarire Da questa malattia Oddio Lei è stupenda È una bellissima donna Fatti dargli un bacino Posso dargli un bacino Mariana A me ci voglio avvicinare Mamma mia raga Ma che cos'è sto gioco Però eh Vado di qui? Si apre Si apre tutto Cosa cazzo devo fare? Non mi devi c'è la lettera Che pure è qua No no Cosa c'è scritto? Caro Lugio Amore mio Hai ricevuto l'ultima lettera Che ti ho scritto Non sei venuto a vedere Eppure Qualcosa è accaduto Cos'è accaduto? Cos'è cazzo è accaduto? No Perché stiamo vivendo Questa scena con Caterina? Perdona Perché? Perché devi rompere i coglioni? Perché? Lucio ti chiama Lucio vedi Lucio vedi che ti sta chiamando Ma le lettere le ho trovate tutte Quindi in teoria Non fare cazzate Non si accende la torcia Oh mio Dio Il santo di Padre Morgan Così è già è molto meglio Sicuro Vado dalla signorina Arrivedergliela Vedo di qui Caterina Sei veramente tu Oddio Oddio No Cazzo di chiudi Cosa cazzo devo fare? Madonna Cos'è il certificato medico? Il registro? Nome Caterina Ranieri Era Ha fatto l'istituto Entrata Nel lotto Qua Il 20 Così Il 20 agosto È andata in ospedale Bellissime vacanze Ti sei fatto Subito dopo il feragosto Una sbronza incredibile Poi va lì E allora Fatemi vedere una cosa Io in teoria posso scorrere Così Perfetto Ah Attenzione Abbiamo il padre Che è Giorgio Ranieri E la madre Maria Romano Cazzo aveva queste qui? Cosa aveva questa ragazza? Esame fisico È un metro e sessantacinque Per cinquantacinque chili La pressione sanguigna È tra le ottanta e i centoventi La temperatura è di trentasei gradi Quindi normale Riflessi oculare Pupile dilatate Mobilità ridotta Sintomi del manierismo Effetto tipico di schizofrenia Stato di coscienza alterato Delirio e confusione Molto interessante Sei una ragazza per bene E qua che cazzo abbiamo? Esamina Siamo noi in teoria Troverai la soluzione Caterina necklace E che cazzo devo fare? Non lo prendi? Non lo prendi? Non lo prendi? Io ne ho pure uno Ah io c'ho quello di Caterina Oh Che cazzo ho fatto? Gli ho aperto Va tutto bene tesoro? Cazzo si è aperta la porta Me ne vado e torno subito Io ho troppa ansia Caterina Vai affanculo Vado di qui Vado dall'altra parte Mi sembra corretto Ma me ne è arrivato Dall'ascensore Vai affanculo Non prendo quell'ascensore E cagare Vado qui Dritto Dove il demonio non c'è Mamma mia Che cazzo di ansia Tra l'altro Ragazzi io ci rido Mamma mia Abbiamo la chiave Della lavanderia però E la lavanderia Era il piano terra Bisogna vedere se Mi ci porta adesso Che trova la sequenza Tuo padre Sì Sì Se non sbaglio era qui la lavanderia Da qualche parte Mi ricordo che c'era la lavanderia Cosa? Si aprono porte E a caso Sono le porte dei pazienti Non dubito ci sia ancora qualcosa Guardate queste porte qui Io mi auguro che non ci sia nulla Perché se no è un casino Se non le esplorate bene Ma qui c'eravamo stati E non penso di non averle esplorate Onestamente La lavanderia Eccola Il personale è autorizzato Noi siamo autorizzati A far cazzi degli altri Io non vorrei fare mai L'investigatore come questo Cioè questo se ne va Così a investigare Sulla più pazza Fabiglia paranormale Penso che esiste Cos'è? Lavanderia Non ci credo Ce l'abbiamo Abbiamo aperto la lavanderia Sempre più allegri i posti C'è una valvola che fuma Parelle Mamma mia ma è orrendo Questo posto Questo non si apre Questa purtroppo si Ok questa è già l'aria Di essere Più una lavanderia Ecco Non posso fare nulla Tra l'altro qui Ma queste sono tutte porte Che si aprono Cos'è sto rumore? Lavatrici? Eh ma è un po' Pico me il rumore Minchia le posso Oddio non ci credo Dai ho trovato la lastra Per favore Devo solo ritornare Al quarto piano adesso Eh Madonna Cos'è? Dio questi momenti Anziogeni a caso Guarda che ti ho visto Ed eri proprio pelato Guarda Ti ho visto Figlio di puttana Non mi muovo da qui Rimarrò qui Per il resto della mia vita Ed è dentro una lavatrice Va bene Ma purtroppo il gioco Non si finisce Se non andiamo avanti Quindi devo per forza Premere il tasto W Procediamo In questo luogo Bellissimo Che è la lavanderia Ma questa si poteva aprire? No Noi abbiamo fatto Dall'altro la strada giusta Così a caso Senza sapere niente Non lo porto da un bel po' Elsid E poi ho pure visto Dei video su youtube Quando Ho visto quella scena Del codice Dove mi ero bloccato all'inizio Penso episodio 2 o 3 Avevo visto che Comunque Ci sono dei video World Truck Tipo completo E un video di 2 ore Quindi il gioco in teoria Ha una durata di 2 ore Quindi sono io il coglione Che mi blocco Mi blocco subito E noi da qui potremmo andarcene Noi siamo al piano terra Abbiamo le due lastre Raga Le due lastre erano al quarto piano Eh sì Cazzo è la scienza Allora penso di qui Comunque Purtroppo il personaggio Non va più veloce di così Quindi ci vediamo all'ascensore A meno che ne succeda qualcosa Siamo all'ascensore E fin qui Sembra che siamo vivi Siamo sopravvissuti A tutto l'inferno Che c'è qui E qui la sequenza E fatti No ma non possiamo usare questo Dai Porco di quel cane Allora Camilla è al quarto piano Bisogna vedere Se al quarto piano Non ci porta Quindi il primo e il secondo Forse non ci sono Sì Ci ha portato al quarto piano Attenzione Quale si apre Madonna Oddio Signori Maria 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 Mi fa care di malato Comunque lei è un pelato Buon uomo Sì ma io come cazzo passo Magari si apre Ti prende per il culo Ti fa morire così Vorrei rischiare Ma ho paura di Oddio Abbiamo questo Ok Quindi ha le gambe rotte E mettere No Madonna mia Santissimo Lei perché non si muove più Ma si è aperta la porta Le abbiamo messo le raste Fai vedere negli obiettivi Un attimo Ma Allora ce ne sono ancora O non li ho usato O non si attiva Magari devo attivare qualcosa Madonna E scompaiono Quindi a meno che Non le abbiamo fatte tutte Buon uomo Siete coglioni Fin quando non fa rumore Non dà manco tanta ansia Ma quindi noi dal quarto piano qui Non possiamo fare nulla Scusa Direi di no Qua c'è sempre viaggio Ok raga A caso A caso Ho trovato in una stanza Un'altra lastra Ed è In teoria di Camilla Secondo Diciamo i nostri obiettivi Noi dobbiamo trovare E vedete La missione è completata Delle lastre Abbiamo entrambe le lastre Ci troviamo in questo momento Al quinto piano Io Due ore Due ore Porco di quel cane Che giro qui In un ospedale Di merda Sono rotto i coglioni In teoria Se adesso vado al quarto Dovremmo essere al quarto Dove c'è Biagio Che ci saluta Sempre allegremente Eccolo qua Figlio di puttana In teoria Dovremmo poter mettere Le due lastre Di Camilla Ti prego Almeno Fa che sia così Camilla era Una E due E attiviamo Ok Oh Vai È morta Biagio Fai qualcosa Stamore Biagio Camilla Biagio Biagio Ma non fai mai un cazzo Tu Ma che è bagatissimo Quest'altro È morta Camilla Si trova le lastre Per uccidere E ora Le gatte incredibili Cos'è che c'è dall'altra parte La sedia a rotelle Resta lì Quindi adesso Si è rotto il loop E ora che ho fatto Sta cosa Posso andarmene Questa non era chiusa Oh cazzo Oh cazzo Oddio Vedo un cazzo Porca puttana Siamo di nuovo in casa Cos'è 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 sbattuti No Que cazzo No è di nuovo No è quella Si Che esce Camilla Di nuovo Eh dai Qual cazzo È ora È questa qui in fondo Come no Cazzo Aiii Porca puttana Di nuovo Che si gira Porco di Eccolo qua Ok Va bene tre round Eh Ecco se Dillo qui Fermi tutti Noi non abbiamo un cazzo A parte la chiave Delle archivi È lì che dobbiamo andare Però deve farci scendere Ma questo Lo vedremo nel prossimo episodio Ciao Pende me Ciao